La partita è aperta, ormai non c'è più da propagandare niente, tra l'altro sarebbe anche illegale, e quindi direi che la partita è una partita aperta, e non è una partita che comunque si vincerà con una percentuale non elevatissima, e questo non è un bene perché dovendo fare dei provvedimenti che sono necessari, ma importanti, alcuni anche con forti cambiamenti, avere un sostegno più consistente in termini elettorali darebbe più forza all'azione di governo.